Salve, sono Ombretta Marasca, ho insegnato a lungo nella scuola primaria e collaboro da tempo con la casa editrice Raffaello. Quest'anno ho realizzato il progetto didattico giorni di scuola. Ora vi parlerò delle unità di apprendimento. Che cos'è un UDA? Un UDA è un percorso didattico e multidisciplinare che favorisce le competenze trasversali attraverso l'uso di un'attività laboratoriale. L'UDA favorisce il pensiero critico e la ricerca di soluzioni originali. Nel testo giorni di scuola le UDA sono inserite nel progetto formativo proposto e le troviamo nel libro Mi Esercito. L'alunno viene messo nella condizione di agire per quello che sa e sa fare all'interno di situazioni problematiche complesse e nuove ma quanto più vicino possibile al mondo reale. Il percorso è organizzato da una serie di esperienze diverse che danno spazio sia ad attività di gruppo che individuali per favorire l'autonomia, la partecipazione, la relazione e la consapevolezza. Come previsto nelle linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. Quali vantaggi per l'insegnante? Le UDA proposte offrono un modello all'insegnante per crearne altri simili da adattare alla propria classe oppure utilizzare quelle proposte personalizzandole. Inoltre i riferimenti multidisciplinari danno unitarietà ai saperi favorendo la collaborazione tra i docenti. Per concludere le UDA che vi proponiamo sono utilizzabili, guidate, utili per la valutazione delle competenze degli alunni anche in vertù del lavoro cooperativo.